Con 72 nuovi casi accertati nelle ultime ore sale a 2.346 in Abruzzo il totale dei pazienti affetti da Covid-19. Tre i decessi più recenti che portano il bilancio delle vittime a 243. Aumenta il numero delle persone guarite, che supera quello dei morti, sono 253. I nuovi casi emersi dai test eseguiti nel Laboratorio di Riferimento Regionale di Pescara, dall'Istituto Zooprofilattico di Teramo e dall'Università di Chieti, sono stati accertati su un totale di 1.042 tamponi analizzati. È risultato positivo dunque il 6,9% dei campioni. Ieri i positivi erano stati 29, su un totale di 848 tamponi, 3,4%. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 243 pazienti deceduti, più 3 rispetto a ieri. Del totale dei pazienti, 324, meno 17 rispetto a ieri, sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva e 42, meno 2, in terapia intensiva. Mentre gli altri 1.484 più 59 sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL. Delle 253 persone guarite, più 29, 202 da sintomatiche con manifestazioni cliniche associate al Covid-19 sono diventate asintomatiche e 51 hanno risolto i sintomi dell'infezione e sono risultate negative in due test consecutivi. Dall'inizio dell'emergenza coronavirus sono stati eseguiti complessivamente 23.786 test. Nel totale dei casi positivi, 232 si riferiscono alla ASL Avezzano-Sulmona-L'Aquila, più 3 rispetto a ieri, 499 alla ASL Lanciano-Vastochieti, più 30 rispetto a ieri, 1.500 alla ASL di Pescara, più 34, e 610 alla ASL di Teramo, più 5.